tu dice che si crea quando si la lava poco a poco quando scorre poi si distacca dalla parete ti ricordi il grotto bello ci dicevano di non toccare le salatine non toccare le salate ecco ragazzi io non ho parole ah certo perché così scende proprio mamma mia vuoi entrare? è aperto è di fuoco è difficile che ti guarda ti meschi la gamba è un ragnetto in gamba eeeh questo non lo posso fare cioè sta capito dove ho fatto la figurina? è un ragazzo 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 è rimasto questo questa è una costoletta di mamma è un ragazzo è un ragazzo è un ragazzo è un ragazzo addio melo andiamo avanti allora Grazie a tutti.